Bene, salve a tutti amici, oggi voglio presentare questo povero fisso che dovrebbe risalire in teoria al 1996 che è un HP Vectra VL5 166 allora il modello esatto sarebbe, e dopo lo faccio vedere, 4566 mi pare comunque dovrebbe avere quindi forse 2,5 giga di hard disk, scheda video nel mio caso integrata in più è stata ottenuta una scheda audio, ma adesso ve lo faccio vedere si tratta di un computer d'ufficio o comunque home eccetera con Windows 95, in questo caso abbiamo un Pentium 1 MMX da 166 MHz come specificato sul retro è stato privato del floppy e di un pezzo della maschera frontale in quanto è impiantato soltanto un masterizzatore CD, per di più sempre dell'HP molto interessante che qui ci sia anche un'etichetta che non vedete con scritto multirid, evitate che trovo una torcina ve la mostro, ecco qui, vedete comunque, questo computer come potrete già vedere dalla ruggine purtroppo non ha passato giorni sicuramente migliori in quanto non è stato trovato in un ambiente normale ma è stato trovato in schiazza comunque questo è il retro delle purtroppo terrificanti condizioni in cui è attualmente basta di vedere la griglia dell'alimentazione guardate qua come è tutta corrosa qui abbiamo una scheda audio che dovrebbe essere una creative messa anche lei non proprio in condizioni meravigliose impiantata nello slot 2 direi qui invece abbiamo un set di porte abbiamo una porta parallela, due seriali, due USB monitor e tastiere mouse uno spazio vuoto, senza niente chiave che non ho capito perché non esca e non gira neanche comunque, vedremo apriamo il PC che si apre davanti adesso vi faccio anche vedere in che condizioni disperate è all'interno allora, andiamo l'altra volta prima, adesso in un altro momento su una Ferrari l'avevo aperto senza problemi ok allora, tanto per mostrarvi come è all'interno beh, si può dire che accendiamo la luce così non abbiamo neanche bisogno della torcia si può dire che insomma non è proprio nelle condizioni che uno si aspetterebbe quanto la ruggine l'ha proprio mangiato completamente la scocca qua è accendata anche nella salsa edine insomma il case diciamo che sarebbe un po' da riadattare non è proprio messo alla perfezione qui vediamo che c'è anche il connettore floppy che effettivamente è presente ma non è presente qui floppy fisico ormai non riesco a capire il perché di questa cosa qua c'è un po' d'erba in mezzo a delle piante l'ho trovato in mezzo al casino più totale comunque abbiamo, vi faccio vedere qua oltre alla scheda madre originale dell'hp con ram che non ho capito se è stata aggiunta o meno comunque ci sono ancora due banchi liberi sono dei seriali questa ram qua è marcata, ci sono due banchi marcati IBM e altri due di marca sconosciuta qui abbiamo i chipset della Intel che ho scritto 1995 là è il processore che dovrebbe essere un Pentium 1 l'alimentatore che è questo qui ci eroga 100 watt qua abbiamo una povera Creative CT 4007 tutta arrugginita uno sottino con dei chip che non so ovviamente che cosa siano questo qui comunque ci riporta sempre sulla scheda madre qua abbiamo i due canali IDE il cavo floppy che strano c'è un cavo c'è anche un cavo staccato vedo qua che dovrebbe essere sempre quello del floppy vediamo un attimo vediamo un attimo da qui esatto sì è proprio il cavo del floppy che è proprio stato staccato anche dalla scheda madre perché qui è vagandante è stato staccato sia da lì che da lì quanto questo è il secondo canale dell'hard disk qua abbiamo il masterizzatore qua c'è un hard disk dell'IBM non lo leggerete mai l'etichetta adesso vediamo così dovreste riuscire a leggerla io leggo 3.2 giga qua su c'è un altro hard disk pieno di sabbia anche lui dell'IBM e anche questo vediamo un po' non so se si riesce a leggere quanti giga è dicembre 97 riesco a leggere la data però allora made in Thailand in mega boh considerando che qui i giga sono scritti sembra più o meno della stessa serie in questo qua è scritto nella penultima riga vediamo un po' qua nella penultima riga 4,3 giga quindi abbiamo un hard disk da 4 giga e 3 e un altro disco da 3.2 uno un po' più grande dell'altro questo sotto forse si è un po' salvato forse questo sopra è un po' arrugito vedete in che condizioni è messo qui tra l'altro c'è il connettore audio del lettore cd che è staccato vedo anche comunque più o meno tutto quanto è presente lì c'è un'altra seriale probabilmente aggiuntiva qui abbiamo il pannellino frontale delle porte cioè dei tasti col tasto di accensione è bloccato adesso si potrà andare a indagare meglio perché sarà entrata al sedine e tutto chissà in che condizioni è sarà difficile anche che si accenda subito questo pc vedo già che comunque l'alimentazione è c'è un collegamento sull'alimentazione di tipo AT qua in fondo vediamo lì c'è anche la batteria del BIOS provo a vedere se è presente anche un connettore di tipo ATX e invece no è un connettore di alimentazione proprietario vedete qua si vede chiaramente che sembra un doppio AT ma non è un AT quindi se questo alimentatore non funzionasse sono abbastanza fregato perché questo computer non lo accenderò mai speravo in un connettore ATX standard invece è andata male vediamo questo connettore del tutto proprietario che collega la scheda madre vediamo un attimo com'è la situazione dei vari pezzi intanto questo video è durato anche troppo comunque questo è il computer non vi ho neanche visto bene ne approfitto con voi per vedere questo blocchetto della chiave che era effettivamente interessante che sembra che debba girare ma non gira ma effettivamente non gira eppure non sembra neanche troppo bloccato però non ha voglia di girare questo qui vedete lui gira tranquillamente serve per bloccare il case ma non so c'è la chiave che sia impiantata in qualche modo abbastanza particolare bene detto questo vediamo come dicevo nei prossimi video ve lo illustrerò meglio e niente ai prossimi video sempre su questo piccino grazie a tutti